Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Lega Ambiente e Coingas in redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia E non solo Estra, Lega Ambiente ma anche siamo con Coingas Buongiorno a tutti Buongiorno a te Massimo, il mio microfono Ah scusate, scusate Ma oggi è una giornata particolare credo insomma dal punto di vista della radio perché insomma abbiamo appena sentito un ospite davvero molto gradito quindi davvero complimenti per questo scoop Assolutamente Allora siamo arrivati alla quattordicesima puntata Questa è la puntata prepasquale la possiamo definire così Massimo No è così Siamo nella settimana santa e quindi siamo tutti insomma un po' a correre quindi ringraziamo ecco i nostri ospiti che sono intervenuti adesso ve li presentiamo La buona pratica di questa settimana si chiama cura dei beni comuni Ecco ascoltateci perché è veramente secondo me un esempio insomma di scelta politica e poi anche come viene realizzata molto molto interessante e curiosa ma soprattutto utile Utile e condivisa Esatto Allora andiamo subito a presentare gli ospiti che sono intervenuti quindi li ringraziamo Francesca Basanieri sindaco di Cortona Buongiorno a tutti E Carmen Ferrari che è la formatrice del laboratorio verso il bene comune Allora questo progetto va spiegato insomma bene per cercare anche di capire da dove parte e probabilmente dove vuole arrivare Innanzitutto che cosa significa cura dei beni comuni Sindaco come è nata questa idea e poi cercheremo di capire anche come viene sviluppata Allora l'idea è nata sostanzialmente perché volevamo che tutti i cittadini iniziassero o tornassero a partecipare in maniera attiva a quella che è la vita del proprio territorio Cortona è ricca di tantissime associazioni culturali, sportive, sociali ma volevamo che non solo le associazioni o a partire dalle associazioni ma anche i singoli cittadini provassero ad avere a cuore il proprio territorio quindi i luoghi verdi, le aree verdi, i luoghi di aggregazione, i luoghi sportivi e così via con l'obiettivo appunto di fare in modo che ogni cittadino si prenda cura di quello che è il proprio territorio quello che dico io è che il bene comune non è il bene del comune ma il bene di tutti i cittadini di Cortona in questo caso Con un bel gioco di parole l'ha detto molto chiaramente addirittura c'è un regolamento proprio sulla collaborazione appunto tra i cittadini e l'amministrazione di Cortona è scritto o non è scritto questo regolamento e che cosa contiene? Sì sì è un regolamento scritto per far partire appunto questi patti di collaborazione in cui si mette nero su bianco quello che è quello che farà il comune su alcune attività e su alcuni luoghi del comune e quello che faranno le associazioni o i singoli cittadini quindi c'è proprio un regolamento per stirare un patto Ecco questo è un patto molto importante perché è uno dei problemi fondamentali della politica cioè manca questo collegamento tra il mondo della politica e chi agisce attivamente nell'amministrare del bene pubblico e il cittadino Esattamente è un problema, è un problema dei nostri tempi ed è proprio un modo di ricordare a tutti che ognuno deve fare la sua parte Giustamente Si può involgere in maniera proprio proattiva la cittadinanza che spesso e volentieri li vediamo insomma segnalare anche sui social i vari disservizi lamentarsi, va bene anche lamentarsi comunque segnalare però questo forse è un modo proprio per dopo la lamentela insomma arrivare forse a qualcosa di un pochino più concreto Ecco, velocemente sentiamo anche appunto Carmen Ferrari che cos'è questo laboratorio verso il bene comune? Sì dunque come dicevate l'amministrazione condivisa ha stilato nel 2014 il regolamento dal regolamento se non c'è regolamento non si possono fare i patti i patti di collaborazione o condivisione il comune di Cortona ha già siglato a oggi 24 patti di collaborazione mi sembra che un venticinquesimo sta nascendo e quindi noi nel 2016 scusate se dico noi perché mi sento del comune di Cortona assolutamente sono l'accordo quindi sentirete che mi scappa dire noi quindi abbiamo pensato che siccome erano già stati siglati dei patti ma volevamo anche capire che chi ha siglato questi patti e quindi aveva proceduto con delle azioni previste poi magari ne parleremo perché si chiamano dei beni comuni materiali e immateriali quindi materiali sono sui beni più fisici ma immateriali sono quelli legati adesso diciamo in senso astratto ma comunque alla solidarietà, alla coesione sociale quasi tutti i beni materiali sono attraversati da quelli immateriali perché se io mi prendo cura di un giardino pubblico è anche vero che sviluppo insieme agli altri una coesione sociale, sviluppo solidarietà, sviluppo benessere anche per me stesso e per la comunità quindi ecco sentivamo l'esigenza di un pochettino approfondire con chi l'aveva ma anche con i cittadini attivi e che cosa era il patto per loro quindi abbiamo attraversato diverse componenti nel corso tipo il proprio luogo come il proprio luogo di appartenenza come sviluppavo l'appartenenza alla comunità eccetera per arrivare poi a dire che cosa sono i beni comuni per noi e quindi ecco poi alla fine abbiamo anche dato uno spazio a delle piccole progettazioni che sono andate avanti e hanno creato altri patti e anche le future diciamo ci sono già casi di paese che poi magari si ne parliamo della seconda parte ecco volevo capire quindi ogni cittadino delle magari frazioni del comune di Cortona che sono? 34 ecco un bel po' quindi ce n'è da progettare può diciamo decidere come occuparsi del bene comune questo è il senso? sì esattamente ogni cittadino ogni associazione può decidere di dare una mano all'interno della propria fazione sia appunto prendendo il sicuro come diceva Carmen dei beni materiali ma anche facendo delle azioni legate alle attività sociali penso per esempio ai nonni amici così come li chiamiamo noi della frazione di Terontola che accompagnano la mattina i bambini a scuola perché devono attraversare la statale e quindi loro fanno questa azione che è un'azione sociale di aiuto alla comunità anche questo è un prendersi cura appunto degli altri della propria comunità della propria frazione abbiamo sentito che nel 2014 nasce questo progetto ma la scintilla che le ha fatto pensare a coinvolgere in questa maniera i suoi concittadini il sindaco qual è stata? ma in realtà la scintilla è il fatto che comunque il territorio di Cortona è un territorio molto vivace ha avuto una tradizione di politiche sociali importantissima per cui io ho fatto l'assessore al sociale prima di fare il sindaco e ho conosciuto una comunità in cui se si ha un'idea vengono tutti al tavolo questa è una cosa importante, non sempre accade questo nelle comunità quindi a Cortona se si chiamano le associazioni, i cittadini vengono ad ascoltare e a capire quello che si può fare quindi vuol dire che è una comunità che in qualche modo recepisce e ha voglia di essere partecipi per questo ti fa scattare la volontà di fare insieme qualcosa di più per il proprio territorio mi viene in mente quella canzone di Gaber, grandissimo Gaber la libertà e partecipazione, cioè parlava della libertà da tanti punti di vista diceva alla fine la libertà e partecipazione, di questo ce ne siamo un po' scordati ce ne siamo dimenticati, infatti i principi che sono alla base anche del regolamento in realtà sono principi che forse i nostri nonni davano per scontati quindi aiutare gli altri, lavorare per un campetto davanti a casa un campetto da calcio davanti a casa piuttosto che si faceva tanto tempo fa e un po' ce ne siamo forse dimenticati, la vita è un po' cambiata ma invece provare a riscoprirlo insieme dà tantissima soddisfazione penso per esempio anche, veramente sono tantissimi i patti che sono stati fatti però la collaborazione ad esempio con il gruppo scout che ovviamente è uno dei gruppi più attivi del nostro territorio però ecco, loro ci avevano chiesto di mettere a posto un giardino tra l'altro in onore del loro fondatore che era Antonio Mencarini a Cortona noi lo abbiamo messo a posto e loro lo cureranno io credo che questo sia veramente un valore aggiunto di una comunità fondamentale anche gli stessi scout, i ragazzini che sono lì imparano piano piano con questo gesto a prendersi cura di qualcosa e ora infatti stanno già pensando ad un altro progetto sono piccoli gesti che però fanno il senso a mio avviso di una comunità c'è questa tendenza da parte del cittadino, dell'uomo comune di rivolgersi sempre alle istituzioni perché debbano risolvere il problema una volta ci si rimboccava le maniche fino ai gomiti era un altro mondo noi non chiediamo, non vogliamo che le persone si sostituiscano al comune ed è giusto che non sia così però ecco, un piccolo aiuto è importante nella seconda parte approfondiremo proprio il progetto di questa casa di paese un po' ce lo accennava prima Carmen Ferrari nel cui progetto viene coinvolto questo nucleo socio-culturale di Ossaya però diciamo intanto di che cosa appunto si occupa e come è stato coinvolto in questa iniziativa sì, c'è Ossaya e poi c'è anche Terontola che esisteva già un nucleo aggregativo insomma ecco, un'associazione di associazioni Ossaya è più recente ma insomma ecco, comunemente hanno questa la nostra idea di casa di paese come dire, prende spunto dalle case di quartiere di Torino e anche di altre città e come dire, una casa di paese è come avere una casa propria nel proprio luogo in cui, una casa di tutti in cui sono proprio i cittadini però non è l'amministrazione che dice facciamo questa attività sono i cittadini che partecipando noi abbiamo curato per anni faccio una, apro una parentesi è vent'anni come poi diceva anche l'assessore noi è vent'anni che lavoriamo sul benessere di comunità e quindi anche i patti l'amministrazione condivisa sono arrivati nel momento giusto perché si rifanno poi all'articolo 118 l'ultimo coma della Costituzione che dice che Stato, Regioni, Provincia e Città metropolitane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e quindi è come dire che è una cosa interessante perché è come dire che amministrato e amministratore sono sullo stesso piano per il benessere per l'interesse generale e quindi il benessere dei cittadini ecco quindi fatta questa premessa sono nate tutti questi patti di collaborazione e anche adesso pensiamo a queste case di paese che è come se come dire nel nostro intento è ricreare un'identità collettiva di quel luogo, di quella frazione di quel piccolo parlo di Cortona ma Cortona appunto ha molte frazioni quindi si pensa anche di di aprire anche altre case di paese dentro il comune ma come si passa diciamo dalla progettazione poi alla realizzazione concreta ripeto poi delle case di paese magari nello specifico ne parleremo più nella seconda parte però anche quelle sono frutto di un patto di collaborazione le due case di paese De Rontola e Orosaia sono frutto di un patto di collaborazione in cui le parti quindi associazioni del territorio singoli cittadini si uniscono per appunto creare questa casa di paese che ha una sua identità insomma vorremmo creare questa nuova identità di coesione di coesione sociale tra gli abitanti di quella zona e che comunque siano loro che partecipando attivamente portino i loro desideri ma per questo interesse comune per tutte quindi anche su cose che magari sarebbero per loro e per l'amministrazione importanti in quella frazione Ecco sindaco ma l'ascolto di questi di questi progetti e poi insomma la loro realizzazione come cioè se io cittadino di Cortona domattina mi sveglio di una qualsiasi frazione e dico vorrei fare questo qual è il mio primo interlocutore? Interlocutore è sicuramente il sindaco l'amministrazione o l'assessore di riferimento nel caso dei vari progetti in cui si propone la possibilità di o gestire un luogo o fare un'azione sociale concreta e da lì poi parte l'iter per comprendere se la cosa è fattibile è possibile per il comune e poi si costruisce un percorso Quanto passa se c'è un tempo stimato insomma dalla progettualità alla realizzazione concreta? Allora in realtà non c'è un tempo stimato perché se è una cosa completamente nuova possono passare due o tre mesi altrimenti se è una cosa che più o meno viene fatta dalle frazioni ma non codificata passa molto meno tempo quindi è capitato che anche che alcuni progetti in realtà sono già in realtà fatti c'è stata la necessità soltanto di costruire il patto penso per esempio alle sentinelle della montagna che sono tutte le associazioni di mountain bike di motocross che vanno già in montagna e che insieme a noi hanno fatto un patto per come dire verificare se le strade di montagna sono o meno in buone condizioni quindi questo è stato velocissimo da fare perché c'è già tutto e c'era già tutto c'era già la volontà ed è stato più veloce rispetto magari che quello che le raccontavo prima di ricostruire il giardino per cui ha bisogno di un pochino più di tempo quindi il tempo è variabile a seconda di quello che si fa credo che siamo arrivati a metà strada già di questa puntata già di questa puntata dobbiamo fare un cambio di ospiti insomma ora poi vediamo anche se riusciamo a farlo nel piccolo break o se lo vedranno in diretta i nostri ascoltatori quindi a fra poco Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale ambiente energia sostenibilità responsabilità sociale di impresa inclusione formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra Lega Ambiente e Coingas in redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia allora siamo alla seconda parte tra poco avremo Alessandro Bernardini Andrea mi dicono che si chiama Andrea sì Andrea Andrea il sindaco è una fonte attentibile Andrea Andrea allora dobbiamo va bene sì sì dobbiamo redarguire Andrea Bernardini rinominato Alessandro poi ovviamente c'è Diego Cavallucci che è la nuova New Entry nella seconda parte che salutiamo ciao Diego e poi è sempre con noi il sindaco di Cortona Francesca Basagneri allora parliamo di questo progetto che si chiama Cura dei beni comuni devo dire insomma molto originale almeno per quello che io posso osservare secondo me è l'unico comune che ha in provincia di Arezzo questo tipo di attenzione o sbaglio in provincia di Arezzo sì ci sono comuni dell'Emilia Romagna che avevano già iniziato un percorso simile ecco un percorso che inizia lo ricordiamo dal 2014 con questi veri e propri patti che si stipolano insomma tra i cittadini e l'amministrazione comunale attraverso però questo laboratorio che si chiama verso il bene comune abbiamo appena sentito nella prima parte Carmen Ferrari che ne è la responsabile allora entriamo nello specifico di questo progetto che a me tra l'altro il nome piace moltissimo Casa di Paese intanto da dove nasce questa siamo curiosi come nasce e come funziona allora nasce dalla volontà appunto di cercare di dare in ogni frazione del territorio di Cortona che come vi dicevo è un territorio molto ampio un luogo di ritrovo e di aggregazione dove era possibile in qualche modo far sì che i cittadini anche in maniera spontanea e autonoma come diceva prima Carmen Ferrari potessero avere dei momenti di socializzazione ci abbiamo pensato un po' al nome e poi la cosa che ci piaceva di più era la casa nel senso di un luogo familiare più possibile familiare Casa di Paese quindi è venuto così il nome insomma già da solo racconta molto di quello che poi è il progetto Diego Cavallucci referente delle quindi plurale associazioni delle case di paese perché intanto questo plurale perché insomma non sarà solo una abbiamo capito che comunque c'è il progetto di poterne avere più di una magari una in ogni frazione perché no intanto ci possiamo sì collegare telefonicamente con la stessa io mi occupo in particolar modo delle associazioni che ruotano intorno alla casa di Paese 2 quella di Ossaya e c'è un plurale ecco perché io dico che vivo in un paesino strano che è l'Ossaya siamo circa 200 abitanti e dico sempre che c'è circa un'associazione per abitante dunque è però non male non male come densità ovviamente è un'esagerazione dormite come una volta ancora con la chiave sulla topa spero di sì sì diciamo di sì dai diciamo di sì che ancora siamo in una realtà un po' immaginaria rispetto a quello che ci succede intorno Paese piccolo che aveva le scuole le scuole si sono chiuse col passare del tempo perché ovviamente non c'erano più ragazzi a sufficienza e quella veramente era la casa dell'Ossaya vista da tutti i miei compaesani come punto di riferimento lì hanno gravitato per tanto tempo le diverse associazioni di cui si diceva prima per il plurale perché c'è l'associazione che si occupa di ciclismo l'associazione che si interessa di calcio calcetto che sono quelli un po' più giovani il circolo arci che è la diciamo l'associazione storica del paese l'associazione che ruota intorno alla chiesa dunque insomma veramente un mucchio di associazioni una cooperativa che ha sede l'Ossaya questa parola mucchio mi piace tanto che fino a un annetto fa andavano un po' in ordine sparso ecco andavano un po' in ordine sparso e dunque non riuscivano a dare il senso vero che ognuna di loro vuol dare alla loro attività ovvero far aggregare e dar vita al nostro paese il progetto dei beni comuni e il laboratorio che prima si diceva è stato lo stimolo e lo spunto per mettere insieme queste associazioni tirarle tutte insieme dentro quella casa che tutti gli ossaesi quindi è la vecchia scuola la vecchia scuola esatto che è la vera casa di paese perché la casa di paese poi non è un qualcosa di immateriale la casa di paese è una casa una casa vera e propria esiste è un luogo fisico fatto da diverse stanze da diversi luoghi che stiamo cercando di rendere più accoglienti possibili con il passare del tempo lavorandoci lavorando sempre con una collaborazione attenta da parte dell'amministrazione comunale allora abbiamo al telefono Andrea Bernardini assessore al comune di Cortona con deleghe alle politiche sociali sanità ambiente e sport benvenuto in diretta Andrea buongiorno buongiorno a tutti grazie allora in questo periodo quali sono le attività in corso? ma rispetto al spazio di collaborazione abbiamo molte trattative in corso con varie associazioni che semplici cittadini abbiamo fatto un bel percorso ormai dall'approvazione del regolamento dei beni comuni che ormai è del dicembre 2014 abbiamo approvato 28 beni 28 parti sia a livello immateriale che materiale e diciamo quelle delle case di paese sono quelli su cui abbiamo concentrato la maggiore attenzione e che veramente si hanno reso orgogliose la nostra amministrazione di aver creato questo tipo di strumento per la comunità per far sì che si ridia vita ad alcune fazioni che magari erano più in difficoltà con la collaborazione di tutte le associazioni presenti abbiamo sentito parlare da Carmen Ferrari che è la formatrice del laboratorio verso il bene comune di questo bene materiale e immateriale ecco ci vogliamo ritornare sopra sì perché molto spesso noi pensiamo quando agli bene comune pensiamo esclusivamente magari a un giardino da mantenere o una porzione di terreno da riqualificare o una ex scuola come nel nostro caso o anche altri immobili del comune invece la nostra logica è stata anche quella prevalente è stata quella proprio di concepire il regolamento dei beni comuni soprattutto indirizzandolo ai beni materiali abbiamo fatto numerosi fatti intergenerazionali quindi coinvolgendo sia gli anziani che adulti che i bambini quindi con persone del centro sociale sulla nostra struttura la nostra casa di riposo di Camuscia i bambini che frequentano la ludoteca quindi facendo un vero e proprio interscambio tra generazioni e in particolar modo anche il progetto Nati per leggere abbiamo fatto un fatto di collaborazione con la con i pediatri con l'associazione Amici di Vada che hanno acquistato dei libri da donare ai pediatri per i bambini appena appena nati o comunque piccolissimi quindi crediamo veramente che non si possa solo immaginare il bene comune soltanto materiale ma molto si sa da fare anche per i beni comuni immateriali benissimo possiamo penso salutare l'assessore ringraziarlo tra l'altro nelle sue deleghe c'ha già un po' tutto il panorama insomma di quello che poi queste associazioni le tematiche che loro insomma affrontano quindi è davvero l'assessore penso di riferimento per tutte queste è stato fatto a caso diciamo questa unione di queste deleghe non sono state fatte a caso sono state volute proprio perché riteniamo che appunto questo dà il senso dell'associazionismo della volontà di stare insieme quindi sociale ovviamente ma anche insieme allo sport sociale e sport sono fondamentali proprio per la tenuta sociale di un territorio e poi l'ambiente che ovviamente si integra perfettamente perché un buon ambiente un ambiente sano comunque è la base per poi costruire anche tutti gli altri percorsi bene diciamo che l'argomento ha tante sfaccettature insomma una domanda tira l'altra insomma volevo fare una domanda al nostro giovane a Diego che è stato ribattezzato dal dietro le quinte il sindaco di Ossaia perché effettivamente il sindaco confermo paglino cartelli eccoli così tanto per suggerire una battuta diciamo che quello che fa piacere che risalta insomma in questa situazione è che la tua giovanità insomma questo coinvolgimento da parte dei giovani perché c'è un po' troppo disinteresse per la cosa pubblica anche i grandi perché poi i ragazzi oggi prendono l'esempio sempre dai genitori stavanti mattina in diretta commentavo quel fatto bruttissimo che è avvenuto nel nord Italia di questa insegnante che è stata legata picchiata la domanda che mi sono posto dico ma che genitori hanno questi qui insomma questi ragazzi perché io li condanno certamente insomma però ai miei tempi insomma quando si tornava a casa chiudevo la porta e poi insomma facerei conti esatto però questo coinvolgimento questo mi riempie il cuore di gioia vederti così giovane coinvolto a questo livello se hai una domanda personale le voglio rispondere così poi dopo magari parlo anche degli altri che con me seguono questa cosa per esemplificare mentre siamo qui che si parla i miei a casa la mia famiglia stanno facendo una quarantina di panini panine le chiamate voi Arezzo noi si chiamano sciarce con la ciccia a cortona anche noi sciarce la panina la panina gli aretini di solito le chiamano la panina ecco dunque diciamo che io come storia di famiglia vengo da questo da domenica sera se non siamo 25 a tavola non siamo contenti qualcosa di aggregazione sicuramente viene dalla mia storia personale ma viene dalla storia delle piccole frazioni che ancora in qualche maniera riescono a trasmettere alle giovani generazioni questo mentre nei grandi centri nelle grandi urbanità questo si perde il senso di stare insieme è un po' perso ancora da noi è salvo e penso che l'impegno che l'amministrazione ma che noi mettiamo in tutti i momenti per le case di paese per l'aggregazione per l'associazionismo voglia dire questo voglia dire che noi non lo vogliamo perdere il senso di stare insieme anzi siamo qui anche noi giovani a dire che non lo vogliamo perdere assolutamente lo vogliamo coltivare lo vogliamo migliorare e lo vogliamo tramandare ecco abbiamo pochi minuti cinque per gli altri progetti perché ne dobbiamo assolutamente parlare però velocemente con Diego allora anche io vengo da una piccola realtà che è Cigiano spesso capita che tra le varie realtà le varie associazioni quella del calcio quella filarmonica qualche lite ci scappa come fate a tenerle tutte insieme in come dire a farle andare d'amore e d'accordo perché questo mi serve anche per il mio paese così un consiglio l'amore non è bello se non è litigarello sicuramente sicuramente lo screzzo la battuta qualche volta anche esagerata ma deve assolutamente essere superata per il valore che ha lo stare insieme per il valore che ha il portare avanti un progetto ambizioso come dire anche una rappresentazione fisica a questa casa appunto di paese come punto di riferimento dove o lavare i panni sporchi in famiglia o invece progettare spero cose belle forse aiuta no? assolutamente avere un luogo è fondamentale avere un luogo fisico dove trovarsi è importante dove avere un punto di riferimento quando si parla di nazione il territorio diventa importante così per noi un patto come questo avere un punto di riferimento dove trovarci per fare le riunioni per discuterne sicuramente è una cosa fondamentale fa la differenza ci tiene sicuramente insieme il voler tenere in piedi questa casa che poi anche affettivamente è legata a tante persone dell'Ossalia perché ci sono andate a scuola e dunque lo sentono come luogo veramente loro e noi giovani lo sentiamo nostro per altre motivazioni sicuramente ci spinge a stare tutti insieme e superare le difficoltà con il sindaco gli altri progetti insomma che sono in ponte quali sono oltre alle altre case di paese che insomma credo che siano ormai per strada tra virgolette sì ci sono tantissimi ci sono tantissimi patti su cui stiamo lavorando quindi di svariati tipi io però se mi permettete intanto voglio ringraziare Diego perché un ragazzo così che ha seguito questo percorso dà sicuramente speranza e fiducia in quello che si sta facendo ed è esattamente diciamo la sintesi di quello che si è provato a costruire non solo all'Ossalia ma anche in tutto il territorio in fondo io mentre parlavate mi sono insegnata due parole che sono responsabilità e fiducia che sono forse le parole che in questi anni vengono un po' a mancare anche dell'episodio che raccontava prima sulla maestra bisogna intanto provare a ridare responsabilità a ogni cittadino del ruolo che ha e del posto dove si trova e con la volontà appunto di prendersi cura del luogo dove vive ma anche ridare fiducia a se stesse e soprattutto agli altri cioè provare a ricostruire un percorso di collaborazione e partecipazione significa lavorare insieme e quindi provare a vivere una vita che è un noi e non è soltanto un io anche in quel caso anche nell'esempio della maestra come si fa a non avere fiducia in una o comunque a andare contro un'istituzione che è quella della maestra e fare quelle cose quindi bisogna imparare a tornare ad avere fiducia negli altri e anche in chi ha voglia di formarti che vuole formarti insomma noi siamo in chiusura quindi ringraziamenti sono lunghi intanto ringraziamo Andrea Bernardini che richiediamo scusa per averlo chiamato Alessandro siamo riusciti però insomma a ovviare facendoci poi una battuta sopra insomma Carmen Ferrari formatrice del laboratorio verso il bene comune che è stata con noi nella prima parte Diego Cavallucci referente dell'associazione della casa di paese nucleo socio-culturale di Ossaya e poi ovviamente il sindaco di Cortona Francesca Basanieri ultimissimi secondi per augurare buona Pasqua anche dalle buone pratiche perché insomma così almeno siamo nella settimana santa fa piacere un'altra buona pratica regalate gli uovi di Pasqua perché insomma è una tradizione di che colore io sai che insomma io sono per l'uomo amaranto per dare una mano a questa regio che sta soffrendo poi ricordiamo che andrà in replica questa trasmissione ovviamente all'interno del palinzesto di Radio Fly ma non solo e di Arezzo TV canale 214 questa sera e poi per tutta la settimana e poi ovviamente ci potete seguire come spero avrete fatto nella nostra pagina Facebook grazie davvero di nuovo a tutti ci vediamo la settimana prossima Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale ambiente energia sostenibilità responsabilità sociale di impresa inclusione formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra Lega Ambiente e Coingas in redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia Grazie a tutti Grazie a tutti